San Giuseppe Moscati ritorna a Torre del Greco. Una settimana di grazia e di devozione per la parrocchia di Santa Maria del Popolo e per la città del Corallo che il prossimo 12 aprile, nel giorno anniversario della morte, accoglierà la nuova effigie del Santo Napoletano, voluta e realizzata su disposizione del parroco Don Rosario Borrelli, da rivolgere alla pubblica venerazione proprio nei luoghi dove il medico santo ha svolto e condotto un periodo della sua attività professionale agli inizi del Novecento. Un percorso iniziato da lontano che fonde insieme realtà storica ed entità di fede che consacra sul territorio cittadino ancora di più la chiesa di Corso Vittorio Emanuele quale autentico luogo della memoria. Abbiamo realizzato una statua, un'opera d'arte realizzata dall'architetto Nello D'Antonio che vuole custodire la memoria della presenza di Giuseppe Moscati quando veniva da Napoli dall'ospedale degli incurabili a fare visita all'ospedale qui di Torre di Santa Maria del Popolo degli incurabili. Un'opera artisticamente rifinita, oltretutto arricchita ed impreziosita anche da particolari segni che lei parroco personalmente ha indicato il richiesto. Sì, la statua è unica nel suo genere perché si vedrà un Giuseppe Moscati che sorge dalla lava, è segno di quella carità sociale che lui ha concretizzato nella presenza qui a Torre e poi ci sarà il segno bello di Giuseppe Moscati, quel cappello che lui teneva sulla sua scrivania con la scritta chi ha metta e chi non ha prenda. E poi nella mano di San Giuseppe Moscati troveremo un fonendoscopio dell'epoca in cui è stata incastonata una reliquia del santo che ci è stata donata dalla chiesa del Gesù nuovo di Napoli. Due le giornate in particolare in cui la comunità parrocchiale, quanti nutrono devozione al santo, sono chiamati a partecipare, così come spiegato dal parroco ai nostri microfoni. L'evento si realizzerà in due momenti particolari. Il primo è giovedì prossimo, giorno 11 aprile, alle ore 19, si terrà un focus su San Giuseppe Moscati e Torre del Greco. Per cui ci saranno due interventi, sarà un intervento a due voci che ci aiuterà un po' ad inquadrare il momento storico in cui Giuseppe Moscati si è prodigato molto per la città di Torre e soprattutto durante l'eruzione del 1906 e poi anche per rendere omaggio e soprattutto dare a questo santo la gratitudine del popolo torrese che ha beneficiato della sua opera di medico e soprattutto della sua santità. Mentre venerdì 12 aprile, che poi coincide anche con la morte di San Giuseppe Moscati, il 12 aprile venerdì prossimo alle ore 18 ci ritroveremo presso la chiesa di Santa Gertrude che dista da qui pochi metri e così processionalmente porteremo in chiesa la sagra effigie di San Giuseppe Moscati per ritrovarci poi alle 19 a celebrare la Santa Messa Solenne. Da ultimo l'appello di Don Rosario alla città e ai cittadini torresi. Invito tutti a partecipare perché è un momento di grazie e sono certo che il Signore attraverso l'intercessione di San Giuseppe Moscati offonderà nuove grazie e benedizioni sulla nostra città.